Ciao, intanto bentornato sul mio canale. In questi giorni di quarantena risulta spesso difficile per alcune persone trovare anche pace o sfruttare questo momento così propizio, così profondo per una propria evoluzione spirituale, una propria evoluzione interiore. Per questo ho proposto dei corsi online, dei corsi in diretta e ieri abbiamo fatto la seconda diretta che è stata veramente molto profonda e devo dire che sono veramente contento di come i risultati stiano arrivando nella vita delle persone. In questo momento lavorare su di sé è la cosa più importante perché se solitamente non abbiamo il tempo di farlo ecco che in questi giorni, in questo periodo, grazie a questa quarantena abbiamo la possibilità di fare un bellissimo lavoro su di noi ed è per questo che il 28 marzo offre un seminario diviso in due tempi, la mattina e la sera. Un seminario che andrà a toccare vari aspetti, fra i quali la capacità e l'abilità di trasformare il proprio pensiero. Quindi lavoreremo sul cambiamento, il cambiamento non solo prodotto da questo momento o quello che questo momento ci sta facendo vedere, ma il cambiamento che per ognuno potrebbe essere qualcosa di diverso perché ognuno di noi sta cercando da tempo di trasformare la propria vita. Quindi attraverso questo seminario andremo a guardare vari aspetti legati alla resistenza al cambiamento, alle difficoltà di cambiare, a quella voce che dentro di noi dice no, è meglio non cambiare, è meglio lasciare che le cose siano sempre così. Ci sarà anche uno spazio di movimento fisico, quindi uno spazio pratico, dove attraverso la musica ci muoveremo, danzeremo, saremo tutti uniti in questo e poi ci saranno degli esercizi legati al pensiero, cioè alla capacità di cambiare il proprio pensiero, quel pensiero che davanti alle situazioni agisce sempre con quei vecchi schemi, con quei vecchi retaggi, con quei programmi che sono sempre gli stessi e che alla fine ti fanno sempre ottenere gli stessi fallimenti e gli stessi risultati. Quindi la capacità di cambiare questo programma, la capacità di decidere in quel momento di usare esattamente un altro schema, di percorrere esattamente un'altra strada, inedita, completamente diversa ma creativa e tua. Un invito a tutti ad un lavoro profondo che ripeto sarà suddiviso in due momenti, ci saranno due ore la mattina e due ore la sera. Per iscriversi al seminario che sarà in diretta è necessario andare sulla pagina www.ariar.it e fare l'iscrizione. Ci vediamo tutti online e come sempre ci sentiremo parte di un'unica sostanza e di un'unica energia che ci permette di aprirci a un senso della vita molto più ampio e molto più reale. Ti aspetto e sarà come sempre bellissimo.